La scorsa notte c'è stato il pronunciamento della Camera dei Deputati circa la proroga per la chiusura dei tribunali dei quattro comuni abruzzesi. In particolare noi pensiamo a quelli di Lanciano e Vasto che comunque sarebbero stati accorpati a Chieti. Presidente Datozzi, cosa significa questa proroga in termini pratici? In termini pratici che verranno differite tutte le procedure di accorpamento, quindi che dovrebbero riguardare anche l'ordine degli avvocati. Io prendo atto delle notizie che ho appreso anche dal comunicato stampa del Presidente Marsilio. Naturalmente noi abbiamo sempre spesso massima solidarietà sia ai territori di Lanciano e di Vasto, anche ai presidenti degli ordini. Abbiamo sempre ribadito come ordine di Chieti che noi abbiamo interesse all'accorpamento e che comunque ci eravamo preparati e siamo pronti all'accorpamento attraverso tutte le procedure che riguardano in particolare l'ordine. Ci sono stati anche nel frattempo degli incontri istituzionali, anche da ultimo con il Prefetto e con il Presidente del Tribunale, con il Direttore Generale del Ministero, per anche risolvere la questione logistica, quindi degli immobili da destinare per ampliare il Tribunale. E quindi prendo atto della decisione e sono contento naturalmente per i due territori e ribadisco che comunque noi siamo pronti. Ecco, comunque una proroga che significa un passaggio momentaneo, però in termini anche di calcoli, l'eventuale chiusura dei due tribunali, lei ha espresso solidarietà perché costituirebbe comunque una sorta di penalizzazione per i professionisti che gli svolgono attività. Questo senza dubbio, è chiaro che, però è un provvedimento legislativo che risale al 2012, che è riguardato l'intero territorio nazionale, quindi è chiaro che Chieti ha avuto dei problemi connessi anche con il terremoto. Ciononostante, ripeto, il Tribunale, l'ordine è pronto, era pronto anche per quanto riguarda le eventuali elezioni che avrebbero dovuto svolgersi con gli ordini accorpati, quindi l'accorpamento avrebbe comportato una rappresentanza naturalmente di Lanciano e di Vasto. Ora, noi, entro gennaio 2003 ci sarà il rinnovo di tutti gli ordini forensi, quindi sia di Chieti che di Lanciano e di Vasto, e poi ci sarà il problema che però l'accorpamento è stato di fatto spostato di circa un anno e mezzo, quindi ci potrebbero essere dei problemi di carattere pratico, però credo che non ci saranno problemi che potremmo risolvere senza difficoltà. Grazie a tutti.